Al via alla presentazione delle istanze di partecipazione per la selezione dei noni civici ad Agropoli, l'amministrazione comunale, al fine di favorire il mantenimento e il reinserimento delle persone oltre 60 anni residenti nel comune di Agropoli, nella vita della comunità, rinnova anche per l'anno 2020 le attività di integrazione sociale degli anziani mediante i seguenti servizi. Sorveglianza presso le scuole, sorveglianza e piccola manutenzione del parco pubblico di Via Taverne, sorveglianza presso il municipio, centro sociale polivalente e castello. Sono 26 volontari che verranno impiegati nelle attività con turnazione per 4 ore al giorno per 6 giorni a settimana, esclusi i giorni festivi. La domanda può essere presentata presso l'ufficio protocollo del comune entro il 15 novembre 2019. Il modello della domanda è disponibile presso l'ufficio dei servizi sociali o presso il centro sociale polivalente. Nello stesso nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. La graduatoria dei volontari sarà formata tenendo conto della situazione reddituale risultante dalla dichiarazione ISE 2019. In caso di parità di punteggio sarà privilegiato il più anziano di età. Si guarda con attenzione, fanno sapere da Palazzo di Città, a tutte le fasce di popolazione. Per gli anziani, oltre ad una serie di centri di aggregazione dislocati sul territorio comunale ed iniziative dedicate a Iover 60, ci sono i progetti di integrazione sociale e l'esperienza dei nonni civici risulta certamente tra i più meritevoli perché vede all'opera persone con determinati requisiti di reddito che prestano attività di volontariato per la comunità. Raggiungiamo in questo modo il doppio obiettivo di farle sentire utili e meno soli.